Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. L'avevamo detto l'altra volta, mille, Presidente Carfagna, è un numero esagerato, è un numero che viene spesso utilizzato per indicare qualcosa di abnorme, mille fiori, mille foglie, mille righe e in questo caso invece indica in realtà mille favori, mille appetiti e mille rappresentanti di Governo è anche l'anno che viene nella storia indicato come forse l'anno più buio, l'anno lo spartiacue, l'anno del Medioevo e noi potremmo definire questo mille proroghe appunto il mille favori, il mille appetiti e il Medioevo della politica che avete scritto voi perché noi dell'opposizione abbiamo soltanto assistito ai vostri litigi, abbiamo assistito alle vostre divisioni, abbiamo visto dividervi e poi ci arriveremo su tutta una serie di piccoli ma significativi versamenti e pagamenti agli amici e agli amici degli amici e abbiamo soltanto cercato di fare il nostro, di migliorarlo, vede Fassina nella sua onestà intellettuale che gli riconosco non solo ha dato atto della correttezza di questa opposizione ma ha anche sottolineato che il mille proroghe e questo mille proroghe rappresenta certamente una anomalia ma lo è ancora di più Presidente perché è un'anomalia che si intesta il Movimento 5 Stelle che è l'azionista di maggioranza di questo folle governo, quel Movimento 5 Stelle che assaltava i banchi quando veniva apposta la fiducia e mette la fiducia sul mille proroghe che è quel Movimento 5 Stelle che condannava, e oggi se l'ha ricordato l'onorevole Rospi passato al gruppo misto, condannava il mille proroghi come la certificazione dell'incapacità di avere una strategia, una visione e in realtà la certificazione del tirare a campare. votiamo contro per due motivi principalmente, votiamo contro perché ci sono tutti questi finanziamenti agli amici e agli amici degli amici. Su questo Presidente mi permetta di rivolgermi suo tramite all'assente onorevole Fiano perché l'onorevole Fiano l'altro giorno proprio su questo tema ci ha richiamato per un vizio antico al dettato del codice penale ricordando a noi, che lo teniamo ben a mente, che bisogna fare attenzione a quello che diciamo perché possiamo sconfinare in alcuni reati. Ebbene allora l'onorevole Fiano che quando stava all'opposizione era molto molto attento alle libertà della democrazia, alle libertà che devono essere concesse alle opposizioni, non si deve più permettere di fare questi richiami alle opposizioni e certamente al gruppo di Fratelli d'Italia perché l'onorevole Fiano deve sapere che noi abbiamo una storia, tutto il gruppo di Fratelli d'Italia ha una storia, noi abbiamo amministrato, noi siamo preparati, noi sappiamo esattamente quello che diciamo e la prossima volta se diciamo qualcosa che non gli garba delle due l'una o ci risponde sul tema o scende nella stazione della polizia qua sotto e ci va a denunciare, così saremo liberi di denunciarlo per calunnia. Lo ribadiamo con forza, in questa legge mille proroghe che in realtà è una seconda finanziaria ci sono tutta una serie di finanziamenti agli amici e agli amici degli amici. Vede, Presidente, noi siamo abituati per la nostra storia che per accedere a un finanziamento bisogna rispondere a un bando e cioè vengono tutti messi in condizione di partecipare. E qui invece ci sono state associazioni che si sono trovate beneficiate di contributi rispetto ad altre che nemmeno lo sapevano e allora la domanda è ma come è possibile? Come sono state individuate quelle associazioni? Per farne un esempio, come mai in tutta Roma è stata individuata l'associazione della Casa delle Donne? Perché non ci sono soltanto le donne della Casa delle Donne a Roma ad avere una difficoltà a pagare l'amorosità, a mandare avanti e mappare la propria attività, invece si sceglie quella e soltanto quella. E le andiamo a vedere un po' di queste associazioni per metterci la faccia nella mia affermazione che abbiamo dato i soldi agli amici e agli amici degli amici. Abbiamo tentato di darli alla Casa delle Donne, l'abbiamo data a qualche complesso conventuale, l'abbiamo data a qualche festival, ai cori, alla diffusione della lingua italiana all'estera, all'Accademia Vivarum Novum, alla fondazione dei lincei per la scuola, all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, solo per darne alcuni, e due che me ne interessano in maniera particolare, cioè i soldi per il personale del MIBAC e i soldi per il Parco archeologico di Pompei. E qui veniamo a un tema politico, vero, serio, di umiliazione, di una tematica che è quella della ricostruzione del Centro Italia. Io mi sono anche stancato di parlare di questo tema, mi sono veramente stancato di richiamare la vostra attenzione a un tema così delicato. Ma come si fa a spiegare ai sindaci dei Paesi colpiti dal sisma che sono venuti decine di volte ad incontrare soprattutto voi, esponenti di governo, sono venuti a chiedervi soldi per il personale e voi avete sempre rinviato e all'ultimo incontro che c'è stato un mese fa avete detto al sindaco Damatrice che questa era l'occasione nella quale lui avrebbe avuto la possibilità di avere più personale e il personale l'avete dato al MIBAC, perché contano più il ministro Franceschini del sindaco Damatrice, senza pensare che lì è in balo la vita di una comunità, anzi di 138 comunità. E mi dispiace che i rappresentanti del Partito Democratico ridono su questo. Non c'è nulla da ridere. C'è forse da avere il coraggio di dire a quei territori che non c'è spazio, che è molto molto più importante il personale del MIBAC che non quello fondamentale per noi che cura tutte le pratiche della ricostruzione. Ed è sintomatico anche il fatto che mettiamo dei soldi sul parco archeologico di Pompei, per carità, una cosa importante, ma se io penso alla devastazione del comune di Damatrice e lo paragona alla situazione di Pompei, io penso che Pompei, che ha aspettato secoli, può aspettare perché lì non c'è una comunità. E il fatto che voi vi divertiate a ricevere continuamente i sindaci e le comunità e continuate a promettere e poi riuscite a dare i soldi a tutti, meno che alla ricostruzione, è per davvero imbarazzante. Noi abbiamo tentato di migliorarlo, vi abbiamo portato su questi temi, anche su altri temi, siamo riusciti a far abbassare l'acetolare secca per quei comuni, siamo riusciti a far prorogare la rimozione delle macerie. È imbarazzante che a distanza di quattro anni si possa considerare un successo il fatto che sia stata prorogata la normativa speciale per la rimozione delle macerie, perché ci sono comuni, soprattutto nelle Marche, dove ancora non si è visto nessuno nei vicoli ormai spettrali di comuni un tempo bellissimi e pieni di gente. Ebbene, ma questo non è soltanto l'unico motivo. Noi votiamo contro, Presidente, perché è una grande occasione mancata, perché abbiamo provato a portarvi sui temi centrali, sui temi delle aziende, sui temi della difficoltà di fare economia. Vi abbiamo cercato di far ragionare sulla difficoltà per le piccole e medie aziende di mettersi al pari con questa burocrazia sulla quale voi accelerate, anziché togliere, anziché semplificare. Ogni giorno, adesso il revisore dei conti, l'altro giorno, quando abbiamo provato a spiegarlo a uno dei Cinque Stelle, ci ha detto che anche la piccola azienda deve avere il suo revisore, basta, i conti devono stare in ordine. Chi se ne importa se migliaia e migliaia di imprese chiudono? Abbiamo il reddito di cittadinanza. Oggi l'Orevole Rospi, a distanza di un anno, ha riconosciuto il fallimento di questa folle scelta. E allora potevamo perdere quattro settimane a parlare di Italia, a parlare di economia, a parlare di Made in Italy, a parlare di quelle che sono ancora quelle aziende agricole, commerciali, artigianali che reggono sulle spalle questo peso enorme, che non è soltanto il peso della casta, è il peso di una macchina burocratica, è il peso di un Paese fermo, è il peso di un Paese che non ha minimamente una prospettiva, perché il tema vero è che noi non sappiamo dove va questo Paese e non c'è un rappresentante di governo che dica che la strada è questa, che dia comunque una soluzione. Ecco, vedete Presidente, è concluso. Noi più che mille appetiti, più che mille favori, ci saremmo aspettati qualche strategia, magari una, una sola strategia per uscire dall'anno 1000 e concludo, Presidente, da questo medioevo di questo Paese decadente che ha sempre più bisogno di risposte. Forse, anzi, sicuramente, la via d'uscita per questo medioevo, il rinascimento del nostro Paese lo potremmo solo e soltanto trovare se verrà finalmente data la parola agli italiani. Grazie.